Buongiorno, sono Marco Fanton-Pedrotti, titolare della Redic SRL di Saronno. Da tre anni a questa parte abbiamo fatto la scelta giusta che è affidare a BMC di Caronno la pulizia ordinaria e straordinaria. Mi sento, data la nostra collaborazione ormai lunga, mi sento di consigliarla a chiunque, alle aziende di qualsiasi settore, proprio perché grazie alla loro tempestività e alle attività riescono sempre a dare il miglior servizio sul mercato, perlomeno per la nostra esperienza. Abbiamo sudato per trovare BMC, nel senso che ne abbiamo passate altre di aziende e diciamo che finalmente abbiamo trovato l'eccellenza.